La Cremonese interrompe la striscia di due risultati negativi con una vittoria importante a Bari. La prestazione probabilmente non una delle migliori, ma quello che contava era portare a casa un risultato pieno. Così è stato e la Cremonese si è rimessa in corsa guadagnando una posizione sul Venezia. Il turnover massiccio è quello effettuato da Mr. Stroppa che ha dato anche risultati positivi su tutti i saju che ha dimostrato di essere un giocatore importante per questa squadra e di essere all'altezza dei titolarissimi. Ora arriva uno scontro delicato in casa perché arriva per l'ennesima volta una squadra che si gioca la possibilità di salvarsi. La Cremonese dovrà stare molto attenta, dovrà avere pazienza ma dovrà anche cercare di segnare il prima possibile per non portare la partita nel secondo tempo quando poi un contropiede o una situazione da palla inattiva può mettere in difficoltà la squadra grigio-rossa che crea tantissimo e deve essere brava e cinica a chiudere le partite il prima possibile. Grazie. Grazie.